Gentili telespettatori, buona giornata. Il governo corre in soccorso del sindaco Gualtieri a Roma. Nel decreto bollette spuntano i poteri speciali. Quindi Gualtieri, come un supereroe della Marvel, cercherà di mettere il termovalorizzatore da qualche parte. Vedrete le scene che faranno nel Lazio per il termovalorizzatore. D'altronde nessuno lo vuole mai sotto casa, ma qualcuno dovrà avercelo perché l'Italia è piccola e la gente mormora. L'Italia è piccola e quando devi mettere un termovalorizzatore, una centrale nucleare o qualcosa del genere sempre è sotto casa di qualcuno. Non ci sono tutte queste aree sterminate, desertiche in Italia dove mettere le cose lontane da qualcuno. Anche Draghi non ne può più della spazzatura e dell'odore nauseabondo. L'unica capitale al mondo sommersa dalla spazzatura. Orgoglio italico. Che bella soddisfazione quando qualche straniero ti dice sono stato a Roma e tu cominci aver vergognato. Ah sì? Ti è piaciuta Roma? Scusa devo andare. Sì, no? Perché ti stai aspettando. Sì no, bella però la spazzatura. Ecco, non è certo una carta di identità molto bella da presentare nel mondo. La capitale, la città eterna, forse la città più bella del mondo, ricoperta di spazzatura. Come un albero di Natale ricoperto di palline. Forse è ora che un paese similcivile come l'Italia possa liberarsi della spazzatura, visto che gli italiani la pagano, la spazzatura è anche cara. Ma i cassonetti nella città eterna sono colmi di immondizia. E Draghi anche lui non ne può più. E così Super Mario ha tirato fuori i poteri speciali. Per te il potere speciale c'è sempre, gli ha detto Draghi a Roby Gualtieri, un aiutino al sindaco romano. Così nel decreto bollette che sta per uscire dagli uffici tecnici di Palazzo Chigi dovrebbe trovare spazio, una norma in grado di creare una corsia preferenziale per l'iter autorizzativo del termovalorizzatore che dovrà chiudere il circolo del trattamento dei rifiuti della capitale. Eh, finalmente! Ci volevano tutti questi anni per fare un cacchio di termovalorizzatore? Eh ma si oppongono i verdi, gialli, grigi, quelli similverdi, quelli col verde un po'... Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Allora, come nelle aziende? Vi spiego una cosa. Nelle aziende il direttore generale o il presidente del consiglio di amministrazione presiede un consiglio, cioè persone che danno dei consigli che non sono vincolanti. Il direttore della divisione vendita, il direttore della divisione marketing, non so, i direttori vendita, i direttori generali possono dire al presidente io la penso così, io la penso cos'ha. Poi il presidente del consiglio di amministrazione è quello che decide, si fa così, punto e basta. La stessa cosa nell'amministrazione pubblica. L'amministrazione pubblica, in questo caso il sindaco della capitale, fa un consiglio di amministrazione con i vari rappresentanti di questo e quell'altro, dice sentiamo tu cosa ne pensi, sentiamo tu cosa ne pensi, sentiamo tu cosa ne pensi sul termovalorizzatore. Sente e poi decide. Il termovalorizzatore si fa lì, punto e basta. Non puoi andare avanti a sentire tutti quelli che sono contro, ci saranno sempre quelli contro. Non puoi trovare l'accordo all'unanimità, non esiste. Mettetelo bene in testa in quelle zucche vuote di politici, non esiste l'accordo all'unanimità, esiste sempre il disaccordo, anche solo per barriera ideologica. Dico no perché tu sei di sinistra o dico no perché tu sei di destra, ma tu sei d'accordo. Sì, ma dico no perché tu sei dell'altra area politica. Quindi un sindaco, se vuole mettere il termovalorizzatore, ed è un sindaco che è stato eletto, lo fa il termovalorizzatore. Lo fa dove si può, dove c'è spazio e basta rompere le scatole. Punto e basta. E' chiaro stufatto? E ma sotto casa mia no. E' una lotteria. Se viene sotto casa tua, viene lì, va da un'altra parte e non si sa. Quindi ci sarà sempre qualcuno che si lamenta. E allora il termovalorizzatore dove lo metti? Nel mare? E no, lì no perché poi si lamentano i pesci. Ma è un problema che perseguita la metropoli da decenni. Nonostante le barricate, non quelle di Salvini, preventive già alzate dalla maggioranza che lo sostiene. Quindi i sinistri sono contrari al loro sindaco di sinistra. Annamo bene, annamo, direbbe la soralella. Però il governo pensa alla creazione di una procedura per consentire all'impianto di vedere la luce senza impantanarsi nella giungla delle autorizzazioni dei veti incrociati degli enti locali che hanno competenza in materia. Quindi lasciamo perdere gli enti locali, il sindaco decide, il valorizzatore è lì, si fa e basta, e basta. Intanto c'è la vicinanza politica tra Gualtieri e Nicola Zingaretti e la regione ad avere diritto di decisione esclusivo sul trattamento dell'immondizia. Per dare il semaforo verde all'opera serve una deroga legislativa rispetto all'attuale piano regionale, un sacco di burocrazia che veramente blocca l'Italia. E così, Palazzo Chigi ha messo a punto una serie di poteri speciali per il sindaco, un supporto a Gualtieri. Il termo valorizzatore romano, che secondo i rumors potrebbe trovare collocazioni a sud di Roma, nella zona di Santa Palomba, oltre a risolvere il problema dei rifiuti, sarà in grado di produrre una buona fetta di fabbisogno energetico della regione. È considerata l'attuale fame di energia del paese a causa degli eventi che stiamo vedendo, post-lockdown, la possibilità di avere una fonte di produzione interna per diminuire la dipendenza energetica è una delle migliori strategie. Quindi non solo far sparire la spazzatura, ma trasformare la spazzatura pure in energia. Quindi due piccioni con una fava, o due fave con un piccioni, vabbè, da parte di fava. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie nuovamente. Ricordatevi che c'è Teleitalia Seconda Rete dove trovate video di politica, di notizie e di fai-da-te. Poi questi video vengono condivisi dopo qualche ora nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata.